Addio ad una delle icone del cinema anni 60 e 70, la sua cifra all'immagine statuaria e la seduzione che con il protrarsi della carriera divenne anche una sorta di limite. La notizia della scomparsa Arisano Taglieri dalla famiglia ha fatto subito il giro del mondo suscitando il cordoglio di fans e di quanti l'hanno potuta ammirare nei suoi film. La prima apparizione sul grande schermo arrivò nel 1964 accanto ad Elvis Presley in Il cantante del Luna Park di John Rich, Due anni più tardi apparve in due pellicole che fecero di lei una star mondiale grazie alla presenza fisica Viaggio allucinante e soprattutto il remake di Un milione di anni fa in cui era vestita soltanto con un bichini preistorico. Per lei anche pellicole italiane come Sparaforte più forte non capisco di Edoardo De Filippo al fianco di Marcello Mastroianni seguiranno altri ruoli che la vedranno recitare con attori come Dean Martin, James Stewart, Jean-Paul Belmondo. Negli anni 90 arriveranno ruoli in commedie di successo come Una pallottola spuntata e La rivincita delle bionde. In televisione la partecipazione alla serie CSI Miami.